Barbara Tamburini, responsabile Core Banking Products and Partnership di Unicredit. Quanto è importante l'innovazione per una banca come la vostra? Per Unicredit è molto importante. È un'innovazione che noi concepiamo al servizio del cliente, chiaramente non fino a se stessa, quindi per l'erogazione di servizi innovativi che consentono al cliente di fruire della banca nel momento e nel luogo in cui si trova, consentendogli anche di risparmiare tempo ma anche denaro. È una direzione strategica molto chiara, quindi la tecnologia per noi abilita nuovi servizi e ci consente di garantire sempre la massima semplicità e la massima sicurezza. Dal punto di vista dell'innovazione digitali, quali e quanti sono stati i cambiamenti in Unicredit? Come dicevo prima, l'innovazione per Unicredit è una scelta strategica molto chiara. Ad esempio Unicredit è stata la prima banca in Italia ad abilitare ai propri clienti le quattro principali modalità di pagamento mobile e di accettazione dei pagamenti mobile. Parlo ad esempio di Alipay, di Apple Pay, di Samsung Pay e di Google Pay. E questo è stato un importante passaggio anche per il sistema paese impegnato nella lotta al contante, quindi nei costi e nelle problematiche che sono collegate alla gestione del contante. Non parliamo però solo di pagamenti digitali, ci sono molti altri servizi in modalità 100% digitali, ad esempio l'apertura di un conto online e con un selfie, oppure richiedere ottenere un prestito in real time. Qual è per voi il futuro dei pagamenti e della shopping experience? C'è una forte chiamata verso il digitale, tant'è che si modificherà e si è già anche modificata la quotidianità del pagamento. Le nuove tecnologie abiliteranno di fatto un pagamento che sarà invisibile. Ci sembrava quindi impossibile poter entrare in un negozio, acquistare ed uscire dal negozio senza passare dalla cassa, senza estrarre il portafoglio ed aver pagato, ma questo oggi è realtà. In realtà il pagamento è invisibile ma è ancora fortemente centrale in questa esperienza e noi lavoreremo su questo, in un contesto dove una competizione sana con partner o comunque con competitor, che non sempre sono competitor tradizionali, si stanno affacciando anche competitor non tradizionali, per noi è un campo in cui vorremmo andare a misurarci sull'eccellenza del servizio al cliente e su questo siamo pronti.